Come ottenere le gemme gratis su Squadbusters? Oggi sono qui per parlarvi di un altro argomento molto importante. Ho già parlato delle monete, non ho ancora trattato le gemme. Infatti sono qui per farvi proprio un tutorial a riguardo. Molti non sanno di cosa stiamo parlando, non sanno perché su Squadbusters le gemme in realtà non servono per comprarsi cose nel gioco, ma sono la metodologia per salire all'interno del pass delle gemme. Insomma ce ne sono tante di cose che molti non sanno. E sono qua per spiegarle. Prima però cosa dovete fare? Semplicissimo, un bel mi piace, una bella iscrizione e un'attivazione della campanella. Questo che cosa mi permette di fare? Mi permette di crescere sempre di più come canale e di conseguenza YouTube consiglia di più i video agli altri utenti e cresciamo tutta la community assieme. Inoltre Squadbusters sta per uscire, quindi speriamo di arrivare a 50.000 iscritti nel breve tempo. Direi che prima cosa che facciamo ci andiamo a prendere la nostra ricompensina, il nostro baule segreto. A proposito ho fatto proprio un tutorial a riguardo. Tre biglietti su tre da andare ad utilizzare, livello 33 dell'avventura della squadra e 12 ragazzi il mio attualmente win streak. Quindi non possiamo neanche perdere perché ragazzi se perdo mi arrabbio. Spoiler, stamattina ero in live così, apro una cassa random, esce Maxine. Ragazzi, cassa epica random, esce Maxine. Incredibile, quindi nuovo personaggio per noi, siamo messi decisamente bene adesso, iniziamo ad essere sotto un buon aspetto. A proposito di Maxine, eccolo subito qua. Lo vado a prendere ragazzi non perché mi piaccia più di tanto, devo dirvi la verità. L'ho già visto in giro, non mi fa impazzire come personaggio, però ci sta. Maxine è un qualcosa di nuovo, almeno prendo qualcosa di nuovo, ce l'ho ragionata sotto questo aspetto. Mi prendo un bel po' di stivali così almeno iniziamo subito a far capire che ci siamo anche noi con gli stivali e vogliamo lottare come gli altri. Non è che siamo diversi dagli altri, anzi. Mi prendo Greghino, così almeno ragazzi inizio a farciare un po' di alberi, che questi qua sono quelli che ti danno effettivamente poi le gemme interessanti. Benissimo, benissimo così. Ok, allora, altro fantastico stivalino per noi. Prendiamo l'ultimo, un altro alberello di qua. Benissimo, siamo settimi. Cioè siamo a sette gemme, in questo caso siamo primi, scusatemi. Prendiamo un goblincino, così mi da un pochino di monete. E di qua ci prendiamo la regina degli arcieri, che a me piace un botto, non so voi ragazzi cosa ne pensate, ma io tipo l'adoro. E quindi per forza, è regolare, è regolare, è regolare. Allora, mi devo allontanare un attimo, adesso poi vi spiego come mai. Ma questa figura qua che ci abbiamo contro è molto molto forte, quindi se la sottovalutate rischiate di prendermi veramente grandi danni. Adesso, dato che siamo messi molto bene a livello di... A livello in generale di upgrade e stivali, cose di questo genere, direi che possiamo utilizzarli per scappare ed evitare di morire. Quindi se mi vedete utilizzare un po' troppe volte il tasto dello stivale, spoiler, io non lo utilizzo spesso. Però in questo caso, trovandoci comunque contro degli avversari forti, perché inizia ad essere a livello abbastanza alto. Il mio consiglio è non morite, diciamo, con dentro delle cose che poi vi pentite di non aver fatto fuori, insomma. Comunque, vabbè, qua ragazzi ce la portiamo a casa nel chilling. Ci portiamo a casa anche un'ottima partita e un ottimo goblin, che era quello che sinceramente io volevo. Quindi sono molto molto contento. Direi che, senza neanche perdere troppo tempo, possiamo andare a prenderci qualche altra monetozza nelle parti un po' retrodatate del gioco. E andiamo dentro un attimo contro questo robot. Ci prendiamo 40 monete, altro fantastico boh. E a proposito di gemme, sono qui per parlarvi del come si fanno ad ottenere. Infatti, perché ho fatto una battaglia? Perché l'unico metodo per ottenere le gemme per salire nel pass è tramite le battaglie. Quindi vi ho fatto vedere un po' come si giocano, secondo me, le battaglie. Dovete giocarle in modo intelligente. Raga, l'ho già fatto anche un video su come vincere quasi tutte le partite e raggiungere sempre la top 5. Secondo me è un video molto interessante, che è piaciuto anche molto. Quindi ho tentato da recuperare. E veramente penso quelle cose. Cioè, penso che sia fondamentale avere una bella strategia. Io penso di avercela attualmente. È vero che probabilmente sono anche avvantaggiato rispetto a molti di voi. Perché ho tanti, tanti, tante truppe. E cioè, diciamo che ormai penso di aver trovato anche però la tecnica più che altro. Benissimo, 41. Allora, io farei così. Bombetta di qua. Bella mega nel chillong. Andrei a dare un po' di fastidio. Lo so che loro hanno un botto di sprint, me l'han detto. Però, guarda, ti dico la verità. È vero che avere sprint aiuta e tutto. Però, con tutto il bene, anche no, anche no. Benissimo. C'è soltanto più lui da far fuori. Allora, nitrospeed. Te prego, dammi la kill. Dammi la kill. Dammi la kill. Sei andato giù. Dammi la kill. Tanto sei andato giù. Mamma mia, cosa ti costa? C'è questi qua ragazzi che non si buttano giù e non si arrendono neanche. Se veramente succede chissà cosa, mi fanno un po' arrabbiare. 30 secondi. Adesso io direi che siamo nel centro. Assolutamente sì. Siamo nel centrisimo in questo momento. Ci mancherebbe altro. Prendo tutte le gemmette anche io. Ne ho 70. Quindi possiamo comunque permetterci di rischiare qualcosina in più. Ok. 90. Manca poco per le 95. Vediamo se riusciamo a prenderci qualcosa da qua. Eccoci. Usiamo tutto lo sprint. Perfetto. Vedete che ne abbiamo 97. Guardate un po' nella parte in alto della leaderboard. Ne avevamo 97. Adesso vedete il corrispettivo in gemme che mi viene assegnato. Questo è un bel metodo per ottenere le gemme. Perché te ne hai 97. Quindi guardate un po'. Secondo posto 180 gemme. Bottino. Che sono quelle che hai trovato in partita. 97. Totale 277. Quindi questo è un bel metodo per ottenere le gemme velocemente. Cercate sempre di raggiungere dei buoni posizionamenti. Comunque già dal secondo posto in poi è già un successo. Perché comunque 180 ragazzi sono veramente tante. Adesso non mi ricordo il primo posto quante ne dia. Però capite bene che è già un bel successo. E altri metodi in questo momento non se ne conoscono. Infatti se andate qua sopra ci dice bisogna raccogliere le gemme in battaglia. Bisogna sbloccare le ricompense. Si bisogna ottenere il super pass per avere dei premi migliori. Però in realtà non è che è spiegato velocemente. Tramite un manuale dettagliato ci dice ah devi far quello devi far l'altro. No raga. Cioè semplicemente ci dice dovete tarellare come dei pazzi. È buona ma non è che... Non lo so non ha delle strategie ben definite almeno. Questa è la mia sensazione. Poi riguardo alle gemme nel negozio molti di voi vi diranno. Va va pur guarda che nel negozio non ci sono. In realtà no raga. Nel negozio non ci sono nessun tipo di gemme. E a proposito di negozio per coloro che scaricheranno il gioco diciamo il 29 maggio inserite il codice INVAPOR. Schiacciate il tasto inserisci. Verrà fuori. Attualmente non è ancora attivo perché sarà temporaneo dal 29 maggio al 30 giugno. Una grande iniziativa di Supercell che ringrazio come al solito per l'opportunità. Parliamo un po' di super pass perché giustamente io ho fatto un video VAPOR ma tu hai fatto il video su come si finisce velocemente il pass però poi non l'hai finito. Cioè questa è un po' una contraddizione. Ed è regolare. Cioè io non posso dirvi di no. Però 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 siamo a 1192. Considerando la mia crescita comunque vedete 300 gemme. Cioè fate un calcolo di 300 gemme a partita. Se ti fai un calcolo 2250 riviso 300 in 7 partite tu ti fai un livello mappa. Ok quindi il mio obiettivo è fare 7 partite sono obbligatorie cioè nel senso almeno arrivare a un livello al giorno fatto mi sembra necessario. Poi vedremo se riesco ad aumentare il ritmo perché mancando 9 giorni e 18 ore. Cioè se adesso te ti fai il calcolo io arrivo a livello 24. Che fa un po' pena devo dirvi la verità. Cioè secondo me con una rasciata di quelle serie tipo una sera mi metto lì faccio 40 partite potremmo tirar fuori il miracolo. Serve veramente il miracolo ma secondo me ce la possiamo fare. Sappiate che questa settimana in live porteremo solo squadbusters perché c'era a finire assolutamente sto pass delle gemme che non voglio lasciare in sospeso. Io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate riguardo le gemme voi quante ne avete a che livello siete del pass insomma un pochetto di cose ci sono da dire. Un bel mi piace un'iscrizione un'attivazione della campanella cliccate il video qua sotto perché è stupendo vi mando un bacio ciao belli.